Ciao e bentornato, con il video di oggi iniziamo una serie di appuntamenti legati all'intelligenza artificiale, quindi uno degli argomenti sicuramente più discussi nell'ultimo periodo, sia grazie a chat GPT, il generatore testuale che adesso è momentaneamente bloccato dal garante della privacy in Italia, ma sia grazie anche ai tanti generatori di immagini che sono spuntati come funghi e che hanno permesso di creare fotografie veramente molto viritiere, come quelle per esempio che stai vedendo adesso, le famose fotografie del Papa con il piumino della Montclair o l'ipotesi del funerario di Berlusconi, oppure l'immagine generata artificialmente che ha vinto uno dei concorsi fotografici internazionali più famosi al mondo. Stiamo quindi parlando di strumenti veramente potenti che permettono di ricreare con delle semplici parole immagini veramente spettacolari degne di un fotografo. Infatti sia la comunità dei disegnatori, degli illustratori e sia quelli dei fotografi sono in allarme, è ancora presto secondo me per dire le repercussioni che avranno questi strumenti per quanto riguarda la fotografia, sicuramente ne avranno, è inutile dire che questa sia fotografia perché comunque scrivere delle immagini, delle parole su un software che elabora l'immagine non è una fotografia perché questi non sono software di ritocco di un'immagine ma proprio software che creano l'immagine partendo da una parola, quindi non si può definire il fotografo uno che fa questo, ma sicuramente avranno delle grosse repercussioni in ambito fotografico e come ti dicevo è ancora un po' presso secondo me per capire quale repercussioni avranno. Mi piacerebbe anche sapere la tua nei commenti. In questi video analizzeremo invece uno dei programmi sicuramente il programma più famoso ma anche più potente che è Mid Journey che è quello che ha generato appunto queste famose immagini del Papa. Partiremo dalle basi, in questo video analizzeremo proprio come creare un account e i vari parametri di come funziona appunto questo come funziona questo programma e poi nei prossimi video approfondiremo il prompt e quindi le soluzioni che possiamo dare a questo software per elaborare le nostre immagini. Passiamo adesso quindi al computer. Per vedere le potenzialità di Mid Journey basta andare su Google, digitare la parola e vedi che ci sono veramente tantissime fotografie, tutte queste immagini sono state generate attraverso questo programma. Vedi che spaziano sia tra la fotografia e anche l'illustrazione, comunque Mid Journey è un strumento molto versatile. Ti dicevo tutte queste fotografie sono state fatte con Mid Journey tramite l'utilizzo anche di Discord. Si tratta di una piattaforma molto semplice da utilizzare, una piattaforma di comunicazione esattamente come Whatsapp in cui puoi scambiare messaggi sia vocali che testuali, immagini e via dicendo e viene utilizzata essenzialmente dai gamer. Vediamo quindi come integrare Discord e Mid Journey e come utilizzarli. Quindi andiamo sul sito di Mid Journey e in questa bellissima schermata iniziale andiamo a cliccare sulla possibilità di join the beta. Cliccando qui Mid Journey si connette già alla piattaforma di Discord e quindi devi semplicemente creare il tuo account su questa piattaforma. Quindi come al solito scegliere il nome utente, verificare che sei una persona quindi con le immagini e poi come avviene praticamente sempre devi inserire la tua mail, una password, registrare il tuo account tramite la conferma con una mail al tuo indirizzo. Dopo queste semplici operazioni sarai catapultato nella piattaforma di Discord e potrai già iniziare a utilizzare Mid Journey o almeno più o meno utilizzare. Perché ti dico già che quando metterai la tua prima richiesta, ora vedremo come, 99 su 100 ti appaierà questo messaggio che ti dice semplicemente che la tua prova gratuita è momentaneamente bloccata perché c'è troppo traffico e devi provare domani. Ho provato 4-5 giorni di fila e mi dà sempre questa dicitura e guardando online puoi vedere che quasi nessuno riesce più a utilizzare la prova gratuita. Questo perché c'è stato un abuso appunto di questa possibilità. Quando ho iniziato io non c'erano assolutamente problemi quindi potevi iniziare a utilizzare Mid Journey anche gratuitamente. Ma adesso quasi sicuramente dovrei sottoscrivere un piano. Non sono molto dispendiosi. Adesso andiamo a vederli. Eccoli qui i nostri piani. Vedi che il piano comunque meno costoso costa solo 10 dollari e permette comunque di creare abbastanza immagini. Sono 4 ore di GPU quindi saranno più o meno più di 200 immagini che puoi creare semplicemente con questo piano. 200 immagini al mese ovviamente se continui. Però per iniziare direi che 10 dollari si possono tranquillamente spendere per provare questa nuova piattaforma. Detto questo vediamo adesso come utilizzare veramente Mid Journey. Quindi come prima cosa spieghiamo la piattaforma Discord. Qua siamo catapultati dopo aver registrato la mail o dopo aver fatto comunque il nostro piano. Per accedere ai documenti di Mid Journey o comunque alla chat di Mid Journey bisogna andare qua a sinistra sull'icona con la barchetta a sfondo bianco. E cliccando poi su una delle qualsiasi chat subito qua a destra per esempio Nubes50 possiamo vedere tutti i lavori che sono stati già creati su questa chat. Come puoi vedere l'output di Mid Journey è sempre a 4 foto quindi per ogni descrizione che darai gli utili darà 4 possibilità. Genererà quindi 4 diverse foto e poi potrai scegliere te quella che più ti piace. Come puoi vedere anche degli input che vengono dati che si trovano sopra le varie immagini sono essenzialmente in inglese quindi sempre meglio lavorare in questa lingua per ottenere il migliore risultato. Detto questo passiamo un po' sul mio account Discord dove c'è già il piano attivato e proviamo a iniziare a fare qualche fotografia. Qua per esempio siamo all'interno della chat Nubes106 abbiamo vedi alcune immagini già generate e poi puoi anche aprire nel browser e vedere più grandi ovviamente il risultato e scegliere al meglio l'immagine che più ti piace. Andiamo a generare la nostra prima immagine. Il comando per generare l'immagine è slash e poi la parola imagine. E poi mettiamo un bel bicchiere di birra quindi a glass of beer. Quindi un prompt, un'istruzione proprio semplice semplice per iniziare. Intanto il programma elaborerà l'immagine però vedi siamo insieme a tutti gli altri che frequentano questa chat e quindi la nostra immagine un po' si perde la nostra descrizione qua ma intanto vengono generate anche altre immagini e quindi è molto confusionale secondo me lavorare in questo modo. Puoi prendere un sacco di spunti perché vedi tante immagini scorrere ma cercare la tua poi può essere difficoltoso soprattutto quando cominci a generarle 10-15 devi confrontarne una con l'altra. Aspettiamo che generi la nostra. Andiamo a cercare che magari eccola qua, la sta generando adesso e adesso poi spunterà una volta generata prima si pixella un po' e vedi è tutta pixellata e quando non sarà completamente nitida appaierà sotto al fondo della discussione. Però adesso prima di parlare di come funziona Midjourney visto che non mi piace assolutamente lavorare in questo modo ti svelo un piccolo trucchetto per lavorare in maniera separata e avere un server solo con le tue immagini. Quindi vai qua a sinistra sul tasto più, crea server personalizzato per i miei amici, metti il nome del server, noi adesso chiamiamo fotografare ed ecco qua il nostro server personalizzato. Riandiamo sulla piattaforma di Midjourney, a cercare un messaggio del bot di Midjourney, eccolo qua, clicchiamo sopra, aggiungi al server e lo aggiungiamo ovviamente e andiamo a selezionare il nuovo server che abbiamo creato, fotografare. Eccolo qua, diamo l'ok, le spunte e possiamo iniziare a utilizzare Midjourney in maniera separata. Vedi che adesso il nostro nuovo server si è unito alla conversazione anche il bot di Midjourney. Quindi andiamo a ricreare il nostro bicchiere di birra e cominciamo a parlare di come funziona veramente questo programma. Ed ecco qua i nostri nuovi 4 bicchieri di birra nella nostra chat privata, qui siamo ben in ordine, e iniziamo a spiegare un po' come funziona. La numerazione delle immagini discord è sempre in questo modo. In alto a sinistra 1, 2, 3 e 4. In questo modo puoi utilizzare i pulsanti sotto e vediamoli un attimo come funzionano. Col tasto refresh lì a destra semplicemente gli dice che non ti è piaciuto quello che ha generato e lui proverà a generare altre quattro immagini. Mentre i tasti U1, U2, U3, U4 ti permettono di creare un upscale e quindi di scegliere l'immagine che più ti piace di queste quattro realizzate e creare un'immagine singola di quella che hai scelto o più grande. Ricordi sempre l'ordine è 1, 2, 3 e 4. Quindi per esempio se andiamo a cliccare U2 andrà a ingrandire questa immagine qua. Questa birra con Montegold è una bella schiumosa in alto. Intanto vedi che sta generando altre immagini richiesta con le refresh. Ed ecco qua il nostro upscale, la nostra immagine, possiamo aprirla nel browser, possiamo scaricarla ed è già pronta da utilizzare. Mentre con l'altra combinazione di tasti quindi U1, U2, U3, U4 puoi creare delle altre versioni dell'immagine scelta. Quindi per esempio se noi ci può piacere l'immagine 3, quella con il bicchiere col manico, andiamo a cliccare su U3 e MidJourne genera altre quattro immagini sempre con questo bicchiere, più o meno questo bicchiere, variando alcune cose della scena come può variare per esempio l'illuminazione, lo sfondo. Andiamo a vedere. E vedi sono quattro immagini con il bicchiere più o meno uguale sempre col manico, poi cambia di forma un pochettino di dimensioni, cambia lo sfondo e quindi MidJourne tramite questi tasti cerca di capire quello che vuoi ottenere. Vediamo adesso alcuni importanti parametri come per esempio le versioni e gli stili che sono parametri che ti permettono di ottenere i output quindi immagini completamente diverse in base a quelle che senti e soprattutto vediamo come possiamo creare i nostri prompt, quindi le nostre istruzioni da dare al software per elaborare la nostra immagine perché non abbiamo solo quello testuale ma abbiamo tre differenti modelli che possiamo utilizzare. Oltre al semplice prompt testuale che abbiamo appena visto possiamo infatti per esempio far partire MidJourney anche da un'immagine e possiamo farlo attraverso due metodi. Possiamo farlo attraverso un link quindi per esempio andare su Google, digitare Glass4Beer, scegliere l'immagine che più ci piace, andare a copiare a questo punto il collegamento quindi il link dell'immagine e poi passiamo di nuovo su MidJourney, quindi diamo slash, immagine, come prima cosa mettiamo il link dell'immagine e non basta un solo link, dobbiamo mettere comunque anche una descrizione testuale oppure mettere più link, almeno due link, quindi mettiamo questo link, l'immagine che ci piaceva e poi rendiamo la descrizione, mettiamo una nuova glass of cold beer questa volta. Ecco qua che MidJourney carica l'immagine che gli abbiamo dato ed elaborerà ovviamente l'immagine in base alla prompt che l'abbiamo fornito. Questa è l'immagine iniziale e vedi che ha ricreato un bicchiere sempre su un tavolo di legno con le righe come esattamente era nella descrizione iniziale dell'immagine e il bicchiere più delle volte ha il manico esattamente come abbiamo nell'immagine che abbiamo dato e anche nello sfondo che comunque ovviamente è diverso e anche la forma del bicchiere è un po' diversa perché non creerà mai l'immagine uguale però è sempre un'ambientazione di bar diciamo e questo quindi è un altro modo per migliorare proprio output per essere ancora più creativo. Ricordi sempre che l'immagine in questo caso va messa prima, il link dell'immagine va messo prima, metti uno spazio perché sennò non capirà qual è il link dell'immagine e poi la descrizione oppure metti almeno due immagini e poi in questo caso omettere la descrizione. Questo puoi farlo ovviamente sia con le immagini con i link provenienti da Google o comunque dal browser ma farlo anche direttamente con le immagini che mi giorni ha generato quindi se noi andiamo a prendere il bicchiere di birra che abbiamo generato prima, tasto destro, prendiamo il link dell'immagine e questa volta attacchiamo questo link sul nostro prompt inizialmente quindi mettiamo questo link e poi di nuovo è Glass for Beer e ovviamente farà questa volta quattro tipologie di fotografie molto simili a quello che abbiamo dato quindi sfondo scuro esattamente come prima il bicchiere molto simile e quindi vedi in questo modo puoi essere molto più accurato nella descrizione di quello che vuoi ottenere. Un'altra possibilità invece è fornendo noi l'immagine quindi abbiamo l'immagine sul nostro computer che ci piacerebbe replicare come prompt diciamo iniziale in questo caso per esempio mettiamo questa immagine del delfino che qua sul desktop la trasciniamo direttamente dentro discord diamo l'invio e vedi che l'immagine appare e come prima ovviamente copi il link e la metti direttamente dentro al prompt che stai creando e poi mettiamo la nostra descrizione testuale quindi in questo caso mettiamo il bottom nose d'olfini in the ocean che ha il trusirope che è questo animale che abbiamo qua davanti e anche in questo caso nel suo tempo MidJourney elaborerà l'immagine e crea ovviamente quattro differenti delfini che nuotano nell'oceano ed ecco qua i nostri quattro delfini che sono generati dal nostro prompt uno che nuota e tre che saltano comunque sono tutti e quattro dei trusirope bene detto questo adesso vediamo altre caratteristiche molto importanti di MidJourney per generare al meglio i nostri prompt vedi che in fondo a tutti i prompt che abbiamo creato ci sono delle diciture che noi non abbiamo inserito in questo caso q2 e v5 analizziamo prima il termine col v sono essenzialmente le versioni da quando è nato MidJourney a luglio del 2022 si sono susseguite fino a cinque versioni di questo programma puoi vedere anche da questo schema che ho trovato su wikipedia e la sesta è addirittura in arrivo hanno detto prima dell'estate io non posso immaginare cosa possa riuscire a fare anche questa sesta versione quindi la tecnologia che sta andando veramente avanti molto veloce però adesso applichiamo al nostro prompt quindi il bicchiere di birra le varie versioni per farlo ti basterà semplicemente partire dal solito lascia immagine e poi il nostro bicchiere di birra e mettere due trattini la v e poi la versione staccato con uno spazio la versione in questo caso mettiamo la versione 1 adesso lo facciamo per tutte le versioni mi raccomando quando vuoi digitare la versione passa bene attenzione come lo fai perché se metti il numero attaccato alla v come in questo caso il programma non lo riconosce quindi adesso andiamo velocemente a ricreare le nostre cinque versioni cambiando essenzialmente solo il numero dopo la v tanto sta generando le ultime versioni ma vediamo quello che abbiamo creato questa è la versione 1 intanto la 3 vedi che sta ancora aspettando è stata nella versione molto minimalistica molto più simile a un quadro astratto che è una fotografia ovviamente è sempre un prompt molto basico abbiamo dato questa è la versione 4 che è già molto più realistica la passiamo alla 2 questa è la 2 vedi che è una via di mezzo tra le altre versioni però sempre molto lontana da quello che abbiamo realizzato con la versione 5 eccola che è arrivata la conosciamo già perché è quello che abbiamo utilizzato fino adesso la versione 4 invece viene di solito usata per dal massimo per le illustrazioni infatti vedi che anche lo stile di questa birra già di base è molto bell'illustrazione adesso il 3 sta generando e comparerà qua in fondo comunque vedi che c'è un netto miglioramento nelle versioni quindi la versione 5 sicuramente quella che fotograficamente parlando da il meglio da quella da utilizzare mentre per quanto riguarda le illustrazioni la versione 4 le altre tre versioni vengono utilizzate molto meno puoi creare appunto delle cose molto più artistiche quindi visto come facile cambiare le versioni un semplice parametro ma come cambia di molto anche l'output ottenuto un'altra invece possibilità che hai per cambiare versione è digitando slash settings vai a questa schermata dove vedi ci sono segnate tra le altre cose le differenti versioni e già io 1 2 3 4 e 5 che sono quelle che abbiamo analizzato adesso per quanto riguarda invece la q che abbiamo visto prima che c'è la q2 si riferisce essenzialmente alla qualità vedi che abbiamo 3 differenti possibilità per elaborare la nostra immagine prima di concludere questo primo appuntamento legato a mid journey vediamo un'altra importante variabile che puoi utilizzare nei tuoi prompt che sono gli stili vedi che sono presenti sempre in questa schermata dopo che hai digitato setting e sono qua sotto stile low quindi basso medio alto e altissimo per spiegare gli stili andiamo di nuovo su mid journey intanto ti faccio vedere anche le istruzioni che sono presenti ovviamente anche su questo programma il manuale d'uso però è nel lingua inglese quindi andiamo sul sito get started quindi da qui se noi andiamo per esempio nei parametri vedi che abbiamo stile a seconda della versione abbiamo differenti parametri che possiamo utilizzare vedi possono essere utilizzati gli stili solo fino alla versione 3 e per esempio per la 5 è quella che utilizziamo solamente noi in default quindi se non scrivi niente e 100 e se no abbiamo un range che va da 0 a 1000 e vedi in questi esempi subito sotto la descrizione come cambia a seconda dello stile utilizzato l'immagine quindi più lo stile è alto più l'immagine è molto più dettagliata questo è quello che abbiamo visto guardando diciamo un'illustrazione ma se passiamo per esempio a ricreare il nostro bicchiere di birra su mid journey possiamo vedere che è esattamente lo stesso per ricenziare tutto ho già fatto io le varie immagini e abbiamo semplicemente il nostro bicchiere di birra versione 5 tutte e lo stile qua ho messo stile 100 anche se potevano ammetterlo perché la versione base abbiamo detto che lo standard è 100 e abbiamo queste immagini un realistico ma non molto dettagliato aumentando a 300 vedi già come aumenta comunque il dettaglio passando a 1000 è il massimo vedi come aumentato il dettaglio delle immagini e secondo me monta anche molto meno reale può essere usato più per un'illustrazione che per una fotografia mentre questo qua a 0 quindi il minimo è molto basico però comunque è una buona fotografia addirittura meglio secondo me di utilizzare uno stile troppo alto quindi hai visto come è facile anche utilizzare questo valore ovviamente l'unico modo per imparare bene a utilizzare 1000 giorni e quello che vogliamo ricreare sul programma è variare i vari parametri e cercare di capire come funziona esattamente come stiamo facendo adesso e come faremo anche nelle prossime lezioni direi che con queste ultime informazioni possiamo concludere questo primo video dedicato all'intelligenza artificiale in questo filmato abbiamo analizzato le basi proprio le primissime basi del programma mid journey quindi avremo nei prossimi appuntamenti da approfondire questo programma analizzando le diverse funzioni che ti permetteranno di ottenere fotografie veramente spettacolari e veramente con pochissimo sforzo ci vediamo quindi nei prossimi appuntamenti